Salve a tutti, come state? Spero tutto bene. Oggi è sabato e deve uscire il video, o persona, sono le 5.35, vabbè non si vede e sarà sempre un video giacchiereggio, in più ci sarà il trigger della gomma che si chiama tipo chewing a mating, che ho già. In bocca. Me l'avete richiesto sotto un video e di certo io non me lo emendo perché io, poi io e i nomi siamo una cosa sola. E poi qualche trigger vario. Ma comunque, e alla fine, niente, non ho chissà che cosa da dirvi. Sto registrando in questi giorni video vlog, sto facendo un po' di cose in realtà, sono andato al corso di chitarra, al corso d'inglese e proprio ieri ho iniziato a fare le prove per fare un musical dove diciamo dobbiamo recitare, poi non so se si canta, si fa, la cosa si fa. Non ho un'idea, però io ho un po' di cose da dire, però non è che sono tantissime rispetto a parecchie persone, altre hanno proprio tantissime cose da dire. E invece mi sono proprio piccole frasi ogni tanto, qualcuna ce l'ho da solo e qualcuna ce l'ho tipo insieme ad altri, sono cose di gruppo. Volevo provare tipo un trigger, nel frattempo con il pannello e la custodia degli occhiali. Perché secondo me tipo il pannello all'interno fa bello. Proviamo. Aspettate, provate ad attaccarlo. Si si fa. Pinnello. Si era stoppato il tutto. Riprendiamo. Spero che vi piaccia questo trigger, non l'ho visto da nessuna parte. Mi è venuto impressionante ci ho pensato e ho detto proviamo. In effetti l'ho sentito e non è male. Ovviamente poi se vi mettete le cuffie è tutta un'altra cosa. E stavo dicendo, boh mi sono scordato, vabbè ti ho lasciato tutto quello che stavo dicendo. L'attornamento del libro per il test dell'università sono arrivato quasi a cinquanta pagine però contando più un sacco di pagine come introduzione. Quindi penso che ne ho fatte un bel po'. Sto vedendo anche delle alternative, cioè non delle alternative all'università, però se magari non dovessi farcela, passarlo un po'. Però vabbè, noi facciamo finta che lo passiamo, quindi non pensiamo poi quando non lo passeremo, vedremo. Adesso bevo un attimo perché ho sito. La Roma sembra in bocca, non l'ho ingoiata. Per chi pensava che me ne stessi ingoiata? Comunque niente, a parte gli scherzi, per comunque per aggiornamenti sull'università, sulle mie giornate, sulla mia vita, le vedrete più nello specifico, nel videovlog di Noiti. Perché diciamo che racconto di più la mia vita, racconto quello che faccio nell'esatto momento. Quindi niente, cioè... E il più bello è se guardate, in effetti, il videovlog. Io quindi vi aspetto ogni lunedì e sabato. Lunedì videovlog e sabato di ASMR. Spero che questo video vi interaggia con questi trigger. Vi sia piaciuto. E noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao! Ciao!